Evelina Cataldo, punta di diamante degli arcieri del vecchio castello, per sconfiggere la monotonia si è cementata in un allenamento alquanto particolare, è forse unico nel suo genere per iniziativa e inventiva. La giovane e brava arciere di Castelvetre sul calore, con un cartone ed un semplicissimo foglio A4, ha simulato una gara vera e propria. Il tutto è stato ideato dalla World Archery per far tenere tutti gli atleti sulla linea di tiro anche stando a casa e per tenervi pronti per l'immediato futuro. Ogni settimana c'è una nuova tipologia di torneo, un nuovo bersaglio e un nuovo regolamento e alla fine della settimana si decretano i vincitori. Nella sessione di sfide ci sono tutti i migliori arcieri del gruppo. È sicuramente un modo carino per ritrovarci tutti e per vedere se abbiamo conservato una mano precisa ed educata, dichiara Evelina Cataldo. Non mi tiro mai indietro quando si tratta di scoccare una freccia. Il tutto è svolto nel miglior modo possibile, ovviamente sempre rispettando le norme di sicurezza e di prevenzione, conclude Cataldo. Grazie alla World Archery passerò una quarantena diversa e divertente.